video ripreso in full hd 1080p con huawei honor 6x smartphone presentato dalla sub brand cinese di huawei al ces 2017 di las vegas andiamo a fare uno zoom diamo zoom 4x la qualità diminuisce abbastanza drasticamente facciamo un ban veloce messa a fuoco piuttosto lenta però comunque nella fascia di mercato qualità complessiva sufficiente o appena sopra la sufficienza